Se un qualche studente dovesse presentarsi durante le lezioni con i sintomi influenzali diciamo così, cioè febbre superiore ai 37,5, in questo caso immediatamente il ragazzo va, o anche il personale scolastico chiaramente, va accompagnato in un locale che la scuola deve appositamente identificare prima, infatti noi abbiamo già invitato le scuole a individuare uno spazio, anche piccolo non è necessario di grande spazio, dove poter immediatamente diciamo così ricoverare la persona che presenta dei sintomi, chiamiamoli così, sospetti e questa persona va, gli va messa immediatamente la mascherina chirurgica perché a scuola al momento si possono usare mascherine di prossimità, quindi anche quelle in cotone eccetera, però in questo caso va messa la mascherina chirurgica e vanno attivati subito i servizi sanitari per verificare, quindi poi scatta tutta la procedura, tamponi e quant'altro.